Mi dite chi siete, dove siete, cosa fate? Si occupa di etica e di sociale in genere. Cerchiamo di pubblicizzare l'evento annuale che tutte le esigenzioni che si occupano di Santa Fista di Mora a Milano organizzano, si chiama la notte di Santa Fista di Mora e quest'anno cadrà il 15 ottobre. E' un evento che viene organizzato in particolare per cercare di sensibilizzare la cittadinanza a questo tema che in qualche modo colpisce il vostro schienzo.